Il disco è il più al disco e quindi vedete il mosaico che è all'unico che si è conservata la vena. Presumibilmente è realizzato tra 435 e 450 da un disco. Il mosaico è stato ispirato, quello che è il suo cuore, quello che è il fonografia, da sapere che risolvo, era il confessore di gallacracia e rappresenta quello che è il tempo circolare dell'uomo che rimane in attesa della vita eterna.